Sto registrando Gio E' come la testa sto coso Ma c'è qualcuno che avete? Ascoltami e nola Siamo stati frucoci Dopo mi presento Anche se hai saputo Prendi il culo lo metti nei pantaloni e vieni qua E' una motivazione valida Sei speaker prima di tutto E' una motivazione valida Ci sono due Una coppia di nostri fans Che sono arrivati qua E vogliono conoscerci A me l'ha già conosciuto Però ho detto chiamiamo il Gio Facciamo venire qua anche il Gio Ok Ciao piacere io sono Lorenzo E mia moglie è Diana Ciao Siamo venuti direttamente qua per voi A Monzummano Termi E che sono venuta a pensare che hai portato la nuova e le nuove Eh davvero infatti volevo chiedervi Ma cazzo Io credevo di arrivare qua a vedere il sole Cazzo è una temperatura estiva Invece qui pare di essere inverno Sei mai portato i PC di livello? I PC di livello Te riporto al prossimo anno Tanto ormai siamo di caldo Muove il culo E io sto lavorando Questo è il mio lavoro Questo è il mio lavoro Ascoltami Vieni o non vieni? No Come ti voglio bene Come ti voglio bene Dai vieni Dai dai ti aspettiamo Sei proprio un amore tesoro Dove state Marina adesso? No siamo a Catalina Island Adesso ci stiamo vivendo un bicchiere di vino in spiaggia 40 40 cosa? Ma non è che è un autocisterno eh? No devo andare a fare benzina Dai tranquilli ti aspetto Vai tranquilli ti aspetto ciao Ciao Posso confermare che lui è proprio giusto Non è giusto Lorenzo e Diana sono arrivati dall'Italia Giusto 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 per conoscere No giusto giusto Sono in vacanza Dai adesso non scherziamo No Sono qua in vacanza È il quarto anno che vengono in California Ma ho detto Sono passati qua in Marina Hanno fatto una piccola deviazione E sono passati a trovarci Lorenzo e Diana Graziosi Ciao Ciao Grazie 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 È bello Mi fa piacere sempre quando Conosci nuove persone Specialmente Quando vengono poi a trovarti O comunque ti conoscono Conoscono attraverso Youtube E quindi grandioso Noi ci vediamo dopo Ciao In Italia No perchè il pezzo non verrà Ciao 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 Io ti l'ho detto Per te li prendi e ti prendi Guarda Ma che sia Io sto parlando Un secondo Non vieni mai Non vieni più Scusami Una volta che ti becco Ti tengo Gatti Dio qualcosa Dio qualcosa Dio qualcosa Dio ciao 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 Ok 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 siamo tutti qui in ufficio oggi Iiii Ciao Siamo tutti qua in ufficio oggi Oggi venerdì oggi non si lavora ragazzi Sì E quindi ci sono gli nostri amici Lorenzo e Diana Il giorno è arrivato Il giorno è arrivato Perché non c'hanno i fish and chips No i fish and chips Dai Perché non vuoi andare Ma sto aspettando andiamo Ragazzi Andiamo Vago io C'è scritto Piere Paperoni Ma mia quella non inizia la Oggi è stata una giornata veramente divertente Queste due splendidi Questa splendida coppia Mi sono incantato E' lìa Quindi Salutiamo Grandioso Un bacione a tutti Fantastico È stata una bella giornata Piacere il tuo shoot Spero che tutti i nostri follower Signi il nome come voi Io Ma speriamo che vengano anche a trovarvi Più gente insomma Vi faccio pagare Ciao carissima Ciao Ci vediamo alla prossima Ciao a tutti Ciao E già qua A me non mi vuole salutare E vabbè niente E vabbè Capitano Vedete Ma vabbè Sì proprio betti Ciao West Marine Che è la tappa principale Io amo questo posto ragazzi È bellissimo Tutto a parte della nautica Tutte queste cazzate Piccoli grandi Pennellini Pennelletti Che figata Sono appena tornato da un tipo Ho preso un po' di bandiere per la marina Per la quattro di Luglio ora prendiamo un po' di gibbotti per le bagaie prendiamo un po' di gibbotti per il kayak prendiamo un po' di bagaie nuove e andiamo ok, siamo praticamente ancora a Santa Monica sono partito alle 5, sono alle 5.48 purtroppo hanno chiuso la PCH da Santa Monica c'è una deviazione, tutti sono lì il GPS mi sta dando un'informazione sarò a casa alle 7 7 più o meno un'altra ora sono in macchina da 49 minuti questo è il traffico di Santa Monica a Los Angeles quando succede l'incidente se è una scorciatoia no da quando viviamo su Agora Hills praticamente questa è la terza volta che la PCH viene chiusa per incidenti vedi, in questo caso vorrei che la mia macchina si trasformasse in moto o in elicottero un jetpack un pack jet jetpack d'altronde che ci devi fare questa è questa è così e quindi ce la dobbiamo ce la dobbiamo prendere però che case che ci sono qua ragazzi che spettacolo bella zona questa zona di Santa Monica siamo a nord di Santa Monica e favoloso favoloso c'è un sacco di alberi un po' salescendi carinissimo ah ragazzi noi andiamo avanti con il nostro traffico e ci sentiamo da bucce ma non dovevano inventare le macchine volante nel 2000 il 2000 la Lan 2000 la macchina la PC è già l'onore aperta quindi siamo rientrati stasera è stata brutale questa sera è stata brutta veramente brutta ci sono 6.32 sono partito le 5.10 quindi wow il GPS mi dà 7 stasera è brutta ragazzi stasera me la sono pigliata in quel buco e voglio fare un'altra strada voglio fare Cannon Road praticamente non è Malibu Canyon ma si chiama Cannon molto bella molto una strada molto panoramica perciò voglio farvi vedere un pochettino com'è andiamo BCA andiamo ciao però ti porta un po' giù quindi boh non so magari questa potrebbe essere una nuova alternativa molto più rilassante di Malibu Canyon ma che arriva ciao What are your names? I'm Layla And what's your name? I'm Amelia How old are you? Four And what's your favorite color? My favorite color is red He stands straight up though remember And Layla what's your favorite color? Pink I want to be a banana I want to be a princess I want to be a princess I want to be a princess What do you want to be? I want to be a princess What's your name? My name is Daddy How old are you Daddy? Forty-two Forty-four And what's your favorite color? My favorite color is Blue I want to be Blue I want to be I want to be I want to be A fish Sorry What do you want to be when you grow up? I want to be an ass being a father Aren't you already those days? I'm not too I hate to remind you You already are I don't want to grow up What about this? That sounds good What do you like to do for fun? Spend time with my kids My wife And Grandma And also one of my video games Okay, how do you play video games? Show me Thank you Daddy Yay What are you guys doing? No, 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 no Where are you working? And they have snakes And they have gummy bears and snakes What? No, no, no Amazon and poo poo What's the Amazon name? The Amazon is to buy gummies To buy gummies? Yeah And what else? And we can buy Or something else like treats We can buy Gummies Lion Hey Mom, look You're back It's my brother's wife Look, you can do like this What is going on? What is going on? I'm going to hide Shhh 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 What is going on in here? Tell her what we ordered It sounds like there's an earthquake I got to tell you a secret Tell me A gummy maker What what? A gummy maker A gummy maker Tell her where we ordered We ordered one Amazon Okay One Two One One Two One 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 Two 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 Three One Two Three Two Three Grazie a tutti.